Buongiorno, tutti in gioco di classe. Nella prima di vi salte la commedia di previsi per la seconda volta. In occasione del carnevale a scuola è partito il laboratorio artistico con il professore Valerio Schiavone, che è che muoce tutta la scuola. Gli studenti hanno realizzato delle maschere colorate e decorate, pagando nel servizio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.